Giulia, Cristian, arriviamo a Geripal! Ciao! Ok, finito, ti piacciono? Sono bellissime, guardate ragazzi, sono bellissime! Arrivo! Che succede? Come mi pulisco adesso? Per favore, basta, 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 adesso basta! Pugniamoci! Vali, gioca a te! Ma che è questo? Non lo so! Vai, gioca a te! Prendili ora, stai! Ok, vado io! Vai, gioca a te! Non posso fare, solo io! Giochiamo a questo! Ragazzi, sapete chi viene oggi? Chi viene? Lo sai chi viene oggi, Cristian? Dì! Zia Nicole! Sì! Sì! Ma, mi non fa le unghie! Sì! Ragazzi, dovete sapere che Zia Nicole fa delle unghie bellissime! Non vedono ora, chissà quando vieni! Dai, penso tra un po', cosa stai giocando? Ti va a fare del cocodentista! E questa mi spaventa con quei denti! Se tu clicchi tantissime volte, questa cade ti va a prendere un impatto! Ok, lascia la stai, facciamo vedere! Che hai fatto? Ma hai spaventato! Però io andrò a fare la stesa, eh! Appena arriva Zia Nicole, vi lascio un po' con lei! Tanto giocate con questi giochetti! Sì, sì! Ma non ti preoccupare! Ti puoi fare le unghie! Ok! Va bene! Arrivo! Oh, ecco, Zia Nicole! Questa c'è arrivata! E io mi dove sono? Sono diversa, però c'è un bambino, i bravi stanno giocando! Giulia! Cristian! È arrivata Zia Nicole! Ciao! Come state? Bellissimo! Siete pronti a questa giochetta? Sì! Sì! Allora, ricordi, io esco a fare la spesa! Ragazzi, bravi, eh! Mi raccomando! I bravi! Ok? Siamo arrivati subito! Ciao! Che facciamo? Mi fai le unghie! Mi fai le unghie! Va bene! Tu Cristian mi puoi fare invece? No, lo so! Facciamo qualche gioco? Sì! Qualche gioco tranquillo perché abbiamo messo la mamma che faremo buonissimi, giusto? Sì! Vengiamo! Vengiamo! Allora che facciamo? Nicole, ti prego, mi puoi fare le unghie, per favore, per favore! Eh, le unghie! Io che faccio? Dai, Cri, allora, facciamo una cosa! Io vado con Giulia dell'altro le unghie e tu giochi qui alla play! Però mi raccomando, eh! Mi raccomando! Andiamo, Giulia! Va bene! Però dove devi andare a giocare anche con me! Nicole, me fai le unghie! Lunghe? Che durano tantissimo! Che durano tantissimo! O lilla o rosa! Eh, lilla, lilla! Lilla, sicuro? Sì! Con i brillantini! Con i brillantini, quindi lunghe, rosa! No, lilla! Lilla, lilla! Lilla, ok! Che durano tanto, va bene! Nicole, però mi raccomando, io voglio quasi tutti questi brillantini, ok? Ok! Va bene! Iniziamo? Sì, sì, sì! Dammi la mano! Allora, facciamo questo qua! Abbiamo detto lilla, giusto? Sì, sì, sì! Allora le faccio super lilla! Va bene questo colore, Giudy? Sì, è bellissimo! Perfetto! Adesso mettiamo un po' di brillantini! Sì, io adoro i brillantini! Ragazzi, questo proprio non è giusto! Loro sono andati a farti le unghie e a me mi hanno lasciato da solo! E adesso vi faccio un bello scherzetto! Guardate cosa ho qui! Due blatte! Credete che si spaventerà, Nicole? Ok, finito! Ti piacciono? Sono bellissime! Guardate ragazzi, sono bellissime! Sì, è bellissima! Che è successo, Gris? Guarda! Sì, è bellissima! Addio! Che succede? come mi pulisco adesso Michele ti posso truccare sono bravissima a truccarti posso posso ti puoi portare un bicchiere d'acqua arrivo Chris Michele come lo vuoi blu, rosa, rosso rosso ok lo vuoi il rossetto si voglio il rossetto di che colore Michele secondo me sei bene con un rossetto non lo so, marrone mamma è andata a fare la stessa non so, non lo so non lo so scegli tra questi colori rosso, giallo, verde arancione marrone come lo vuoi? e anche il rossetto secondo me si sta bene verde verde, giallo, marrone porto l'acqua Chris ragazzi adesso finalmente truccherò a Nicole mamma non si fa truccare quindi sono felicissima ho già preparato l'osso gabbello e le mie due valette dove vedo l'ora ecco prego si accomodi questo è il mio bellissimo salone e lei è la mia prima cliente ok adesso prenderò i miei oggetti di scena allora mi faccio un bel ombretto blu o lu blu allora poi ti metto le balline qui sopra poi qui lì sì e ho finito voilà dai Nicole andiamo in bagno ti faccio vedere quanto sei bella come sei bella c'è Chris che salta sul letto ma non vuole Kiko Giulio mi hai anche tu sì sì che bello per favore basta basta adesso basta forza Giulia Giulia Kiko Kiko roasting Kiko si non dì si non vaka la di non di si 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 Cri, ho avuto un'idea Allora, tu ti metti dietro la porta perché sei più piccolo Io invece mi metto qui dietro Quando io ti fischio, vuol dire che Nicole sta arrivando E tu chiudi subito la porta Sei pronto? Che attiviamo il piano Quello che ci fai Cri, sai? Oh, no! Oh, no, no! Sì! Oh, no! Oh no! ragazzi ma cosa è successo credo di aver preso una porta in faccia che dolore anche la fronte mi fa male ma dove sono tutti? Giulia, chicco ragazzi lo scherzo non è andato proprio come volevamo abbiamo rotto un tasso a mamma e se volete seguire i nostri video iscrivetevi al canale attivate la campanellina e lasciate un bel like mi avete sentito? ciao al prossimo video